Alla riunione plenaria della Croce Rossa italiana tenutasi all'interno del Teatro Italia a Roma si è discusso del futuro dell'organizzazione e in particolare della privatizzazione che dovrebbe avvenire a partire dal 1 gennaio 2014. Si tratta, ha dichiarato il Ministro della Salute Renato Balduzzi, di un riordino molto atteso che allinea pienamente la Croce Rossa italiana al Movimento Internazionale della Croce Rossa, garantendo al tempo stesso aderenza ai principi di autonomia e indipendenza. Ne abbiamo parlato proprio con l'attuale commissario straordinario Francesco Rocca. È un'analisi del decreto legislativo che riforma la Croce Rossa, ovviamente il grande senso di responsabilità che deve accompagnare tutto il volontariato in questo cammino così importante a livello nazionale che decisamente apre nuovi orizzonti, nuovi spazi per una Croce Rossa più dinamica, più vicina a chi si trova in condizioni di difficoltà. Ma nel concreto cosa cambierà con la privatizzazione? Nel concreto con la privatizzazione cambierà che non c'è uno Stato che è pronto a supplire ogni deficienza della Croce Rossa italiana, come magari qualche volta in passato è avvenuto, ma i soci in maniera responsabile dovranno sapersi organizzare, come peraltro sanno fare bene in tantissime realtà e essere pronti a rispondere a tutte le esigenze. Questo significa, non significa come dice qualcuno la creazione di una SPA, di una società, la Croce Rossa va in mano ai privati. Privatizzazione in questo caso vuol dire che la Croce Rossa va in mano ai soci, che ne sono i legittimi proprietari. Quali sono le difficoltà maggiori che vive oggi la Croce Rossa italiana e come andrebbero affrontate? Vanno affrontate sicuramente grazie a questo cambio di passo con un nuovo patto sociale con i dipendenti, questo è uno degli aspetti fondamentali. Non aver chiesto queste modifiche alla Croce Rossa dopo la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, ormai datata e datata molto, io credo che sia stato uno dei grandi errori che oggi scontiamo. Quindi questo è uno degli aspetti che va sicuramente affrontato con decisione. Con la privatizzazione la Croce Rossa italiana si allinea alle linee guida internazionali? Con la privatizzazione la Croce Rossa italiana si allinea alle linee guida internazionali e, ripeto, era una cosa attesa da molto. Io mi auguro di essere ricordato come l'ultimo commissario, finalmente ci saranno dei presidenti, lo Stato non interverrà più. Ahimè, a volte ha ragione quando ci sono state difficoltà finanziarie, a volte magari con interventi che potevano anche avere un sapore politico e questo per un'organizzazione che deve essere sempre neutrale e indipendente non andava bene.